Yugi a tutti ragazzi ben ritrovati sul canale oggi siamo qui per parlare di maze of memories il nuovo set che uscirà se non erro il 6 di marzo gli scorsi giorni ne abbiamo parlato in live su twitch quindi se non mi segui trovi il link del sito viola qua sotto in descrizione e oggi con voi voglio andare a fare l'analisi del prodotto e capire se conviene o meno acquistarlo a spoiler no non conviene ma non perché non sia umanamente buono perché nel corso degli anni ho visto prodotti molto più brutti ma perché nel pratico mi sento preso in giro ma di questo andremo a parlare dopo ma ovviamente prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da card game corner il mio sponsor trovate il link del loro store qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon trovate il link del mio instagram qua sotto in descrizione contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo procediamo alla nage allora per quanto riguarda le ristampe di carino secondo me abbiamo giudizio solenne carta ottima soprattutto perché super il playset veniva a costare 10 euro cad e veramente troppo quindi ragazzi se vi serve recuperatelo il prima possibile perché questa 100 100 sale nuovamente poi vabbè imperial iron wall carino raro ma non ne avevamo bisogno sinceramente due buchi tanto per attappare gli slot poi abbiamo qualche carta ricca che costava tipo questa se non sbaglio aveva toccato i 20 euro cad stessa cosa sua sorella rixis che comunque ragazzi non pensate che costi pochissimo perché comunque è una ultra e questo set è composto da ultra super e rare quindi è praticamente la max rare se non sbaglio dovrebbe esserci anche collector non voglio di cazzate poi vabbè ci sono altre carte ricca tipo questa e quest'altra ovviamente ragazzi la realità che vedete non sono quelle vere sono della prima stampa e vabbè ci stanno sono rare manca se non erro una ricca che era un mostro super che però qua dentro non hanno reprintato poi come altre ristampe buona abbiamo avramax carino super raro che tipo starà 50 centesimi quindi sarebbe anche il momento di recuperarlo poi abbiamo barone che l'hanno fatto nuovamente ultra quindi boh farlo uguale al set di led mi sembra un po' inutile vabbè l'importante è che cali perché io il mio l'ho venduto e vorrei recuperarlo a un prezzo minore allora poi come altre carte interessanti abbiamo il nimble che si giocava in sprite e stava a 2 euro cad adesso non starà più a niente il problema è che stare print me l'hai fatta un po' tardi stessa cosa ovviamente ragazzi per sai bestia bellissima super il problema è che sprite non c'è elf quindi ok che si gioca però avercela prima e non farla pagare ai giocatori 10 euro cad poteva essere una buona idea poi poi abbiamo vabbè chimera che ci sta perché altrimenti avremmo dovuto aspettare fino a settembre con i team e non è male anche se comunque attualmente non so probabilmente per la reprint da espansione si aggira sui 35 se ultra non c'è non cala abbastanza conviene sempre comprare quella da espansione poi abbiamo l'antico drago fatato che era stato sbannato quindi ci sta come reprint poi abbiamo tre reprint totalmente a caso alla nera che non servivano assolutamente adesso vorrei parlare direttamente alla conanni ma scusate maestro armatura alla nera che si gioca in edison in alla nera è fortissima non me l'ha ancora reprintata attualmente tipo sta a 20 euro con la gold non è forse arrivato quel momento in cui potresti farla uscire non lo so è anche boh ultra da questa espansione la butto lì eh e per concludere abbiamo questo schifo che si gioca in edison diciamo anche questa due print costava tanto finalmente la konami si è data una svegliata la cosa positiva è che non l'hanno fatta rara ma l'hanno fatta super almeno un po' sbrilluccica dai nei mazzi può fare la sua porca figura ovviamente per concludere abbiamo un po' di roba anime e kazejin suijin sanga del tuono e guardiano del cancello e labirinto dell'incubo insieme poi a boh photon orbital e queste cose che non credo siano neanche anime ma è cavaliere e che se non sbaglio lui era stato reprintato anche nello structure traptrix quindi konami vedo che sai riempire bene i tuoi prodotti con carte assolutamente utili e vabbè poi abbiamo queste due carte misteriose ah spell book of fate che ci sta diciamo di sì e poi ah gattino a molla che questo vabbè ci sta visto che aveva due print una ultimate una ultra da espansione e costava tipo 20 euro quindi ok è una carta che posso accettare allora per quanto riguarda invece i supporti nuovi abbiamo il power up di alcune carte anime tipo questa che va bene poi va bene tutto il reparto delle carte guardiano del cancello e labirinto dell'incubo va bene ok sì anche questa cosa è a caso diciamo che è una cosa che ci sta lo apprezzo che l'avete fatto stessa cosa a questo tutta roba che giocavano i fratelli paradox nel pratico poi abbiamo anche red eyes soul carta carina praticamente è l'anima dei maghi per i red eyes e ci sta poi abbiamo lo spadaccino bls diciamo che è carina perché al posto della droface mi fa rivelare questa carta aggiungere una magia rituale però all'inizio li finisce poi vabbè abbiamo red eyes soul che praticamente è tipo l'anima dei maghi ma per i red eyes poi abbiamo la duell academy che è praticamente più bella che forte poi abbiamo un nuovo supporto hero che pompa spacca attacca tante volte quanti i mostri fusione utilizzati per l'evocazione ehi ma il like il commento l'iscrizione l'hai già lasciato perché se ti piace questo video probabilmente ti piaceranno anche tutti gli altri che stanno sul canale eh quindi dopo ti aspetto non te ne andare eh poi abbiamo carte cyber drago carte risonatore carte 5ds tra cui questa poi abbiamo anche il nuovo supporto inferniti che ragazzi parliamone è relativamente forte già solo il fatto che è considerato come una carta inferniti ve fa capire tutto praticamente l'effetto dice evoca specialmente un mostro inferniti che è bandito nella mano o nel cimitero poi se un mostro inferniti che controlla il distrutto in battaglia o lascia il terreno per l'effetto di una carta all'avversario mentre questa carta è il cimitero posso settarla fortuna posso utilizzarne una per turno cioè almeno poi andiamo su un'altra carta interessante che è l'accel synchro stardust dragon questa carta è molto interessante perché quando è synchro evocata posso evocare specialmente un livello 2 o inferiore tuner dal cimitero durante la main phase effetto rapido posso tributare questa carta ed evoco specialmente uno stardust synchro dall'extra deck inoltre dopo che si è risolto questo effetto posso evocare synchro un mostro utilizzando i mostri che controllo e praticamente il mostro che non uscirà fuori sarà anche immune dagli effetti delle carte attivate all'avversario ragazzi capite che un barone tirato così è grosso allora passiamo alla penultima carta interessante che è numero 39 utopia rising se questa carta è evocata specialmente mi fa targettare un mostro numero xis nel mio cimitero eccetto vabbè praticamente se stessa se sta al cimitero e me la fa evocare specialmente in posizione di difesa inoltre posso attaccare in materialica questa carta al nuovo xis inoltre se io evoco xis posso evocare specialmente questa carta dal mio cimitero però ovviamente quando lascia il terreno viene bandita diciamo ragazzi non sottovalutatela perché può essere interessante che poi se non sbaglio esce super quindi boh la prendete con una cazzata e per concludere vabbè a parte sì roba cxis questo è un piccolo supporto drago che va bene e e vabbè questo supporto pendolo ma ne frega niente non giocando pendolo poi abbiamo vabbè dei bambini che si danno il 5 la carta boh nel senso nime fa evoca specialmente un livello 4 inferiore fata incantatore bestialata o guerriero bestia dalla mano e se lo faccio equipaggio questa carta a quel mostro durante l'inphase se questa carta è mandata al cimitero mi fa serciare una polimerizzazione e fusione e fusione parassita nel senso non mi piace poi abbiamo una carta con dei power ranger che praticamente è un terno all'otto e la sconsiglio poi abbiamo altro supporto pendolo ma di cui non me ne frega altamente niente allora poi abbiamo un'altra carta che mette i segnalini poi abbiamo una carta magia che boh praticamente targhetta un mostro sul terreno l'avversario del proprietario del mostro perde 200 per ogni carta che c'è in mano però il mostro ha l'effetto negato inoltre se viene attivato l'effetto che infligge danno durante la damage step puoi vendire questa carta dal cimitero e settare una trappola normale dal deck o dalla mano se la setto dalla mano posso attivarla in questo turno carina ma molto alla larga e per concludere come ultima carta abbiamo un power up del firewall allora come effetto nega gli effetti dei mostri dell'avversario durante la battle phase e se lo faccio questa carta viene considerata dell'attributo del mostro mandato al cimitero e guadagna 2500 punti di attacco così una volta per turno inoltre per non farci mancare niente può attaccare ogni battle phase un numero di mostri pare al numero dei suoi attributi ma vi dirò peccato che un link 5 fosse stato un pochino più piccolo sarebbe stato veramente sgravato però nel senso ci sta come supporto allora fatto tutto questo preambolo su questo prodotto alla fine possiamo vedere che non è terribile cioè c'è roba interessante sia tra le carte nuove che tra le ristampe il problema è che se in giappone mi fai questo prodotto che praticamente è il loro maze of memories perché a noi ci propini questa roba con delle carte totalmente inutili tipo riduzione di costo quest'altra totalmente boh che cazzo ci faccio solo perché ci evochi lui ci metti tre alla nera a caso che non ci servono roba mac knight che sta nello structure deck trap tricks e invece in giappone fai una roba del genere scusate ma io dico vuoi fare un sunto di tutti quelli che sono gli anni passati ok ci sta i nuovi supporti gate guardian ma perché a loro gli dai palla dirà golem dirava vabbè avramax ce l'hanno dato pure a noi e barone l'hanno dato pure a noi però cazzo questo è un set che io prendo sbusto e dico oh che figata perché in giappone fai un set del genere quando da noi ci dai quella merda scusa ci sono carte totalmente inutile accozzate cioè quello è un set che fai in 15 minuti dicono ok mettiamo questo questo e questo questa riprint può essere carina mettiamo ste tre rare che non servono a nessuno e questa fatto cioè ma un minimo di criterio non chiedo tanto cioè non dico che debba essere uguale perché comunque siamo stati sempre la ruota di scorta dell'OCG però nel senso anche da noi una bella riprint di palla dirà o di golem di lava ci poteva stare golem di lava l'hai ristampato l'anno scorso perfetto non lo voglio ma almeno la palla dirà me la potevi dare scusa perché attualmente nel formato attuale si gioca oppure anche cherubino cherubino l'ultima riprinta del 2020 scusate se non ricordo male poi il red eyes x is cioè qualche altro spunto in più più si poteva prendere dai a noi a noi ci metti mcknight rari cioè è una presa per il culo anche questo adesso che ci fai uscita la banned il mazzo è mezzo giocabile questo fa l'uscita dall'OTS super stessa cosa è il nimble che senso c'è ad armegli adesso scusa che chiunque gioca sprite attualmente cioè uno non va a fare pulci su 2 euro di carta e due se l'è già comprati allora vi dico ci stanno carte come questa ci stanno carte come questa che è fortissima ci stanno carte come questa perché vuoi basare il set su i fratelli paradox ci sta però dio mio una carta del genere non mi serve riprintata qua dentro va bene che mi ristampi ricca ma ristampameli tutti ristampami tutto l'archetipo e poi mi incazzo sì perché mi girano i coglioni quando praticamente questo è è l'alternativa OCG di Maze of Memories ragazzi scusatemi ma c'avevo bisogno di lamentare perché per me è una presa per il culo a sto punto eh che cazzo allora ragazzi fatemi sapere se volete che spenda 97 euro più spedizione per portarvi l'opening di questo prodotto sul canale perché diciamo il nostro fa schifo ma il loro è tanta roba detto questo ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto e se è una scammata o meno perché diciamo girando su facebook ho visto molta gente scontenta però nel pratico non è terribile il problema è che Konami è partita in pompa magna spoilerando tipo tutta la roba più bella e quando ci sono state le anteprime non c'era rimasto più niente quindi posso capire i giocatori perché tipo lo sono anch'io e vabbè è andata così detto questo ragazzi voi state me easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti